oh è che ti chiede un po' la puma oh 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 e poi andiamo manue guarda qua non è arrivato il lavoratore stasera parigine da cianù cianù pomero ragazzi seguiteci eh in tanti fine sud vieni qua guarda come piange hai lasciato a capito ma tu non ci aiuto? c'è chi ti aiuto? grazie ciao 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 buonasera vieni qua vieni qua vieni qua tu non fai niente Susi come hai fatto? come hai fatto il lavoratore sottopagato un lavoratore? sottopagato sottopagato sti zitti frange non dici nessuna cosa non c'è una cosa non c'è una cosa non c'è una cosa cosa mi dici? carta contante carta contante frange come? frange come? come dici? ma ti avrei come controlli soldi come hai detto? ma poi se sto finì va a tutto stagano la sottopagata è fa che sei faticatoio 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 che sei un grande lavoratore questo è un complimento per me che cosa? quella che è di fattopagato la tigra la tigra la tigra amazzona No, che sia il tuo bagno.